Se qualcuno ti chiede dei vaccini anti-influenzali, tu gli sai spiegare perché non funzionano? Dal punto di vista della scienza. Ne abbiamo parlato negli anni scorsi, è molto significativo per noi, perché questo ribalta anche le cause stesse dell'influenza, quindi l'eziologia dell'influenza. Facciamo un aggiornamento, 2024. Nel 2018 la Cochrane Collaboration, che è un'organizzazione votata alla revisione sistematica delle ricerche biomediche sulla base di principi di evidenza, stabilizzava, si dice, le proprie valutazioni intorno ai vaccini anti-influenzali e questo significa che le interrompeva congelandole, ritenendo che fosse inutile proseguire il ventennale lavoro di revisione, perché dati e conoscenze sono da sempre lacunosi intorno a questi prodotti farmaceutici e gli stessi prodotti non hanno mai mostrato una efficacia concreta. Per di più, alla luce dei fatti, i ricercatori auspicavano testualmente lo sviluppo di un nuovo paradigma delle cause dell'influenza, perché le ipotesi eziologiche sulla cui base si producono i vaccini anti-influenzali non reggono alla prova del mondo reale. In quel periodo, 2018, ne avevo scritto un articolo dedicato, perché la questione è chiaramente molto significativa per noi. Oggi, anno 2024, dopo lo storico shock pandemico del Covid-19 e le indelebili polemiche che ne derivano, gli stessi autori, che sono i più consapevoli di chiunque altro riguardo al problema, proseguono a evidenziare le contraddizioni della promozione di campagne vaccinali da parte di istituzioni e media, nonostante le evidenze scientifiche di inutilità delle stesse. Ho tradotto quindi un articolo di Tom Jefferson che riassume la questione ad oggi. Lascio la traduzione integrale a fondo dell'articolo correlato a questo video per poterla leggere nel dettaglio. Ma, in sintesi, il documento tocca questi temi. Prima di tutto che i numerosi tentativi falliti nell'infettare persone tramite virus respiratori dimostrano le lacune logiche nella teoria dei germi. E questo è testuale dall'articolo di Jefferson. Inoltre, l'articolo dice che non si può stabilire che la causa di sintomi cosiddetti influenzali sia il virus dell'influenza, perché i sintomi non sono clinicamente distinguibili. Cioè, non c'è un sintomo che ci dice che quello è necessariamente il virus dell'influenza. E infatti, i dati microbiologici, quelli che sono attendibili e disponibili, non molti, indicano che solo l'11% delle persone con sintomi detti influenzali ha in corpo un virus influenzale. Solo l'11%. Mentre nel 21% si trovano altri patogeni cosiddetti, come il rinovirus o come i virus chiamati para-influenzali. Mentre, attenzione, per il 68% le cause sono ignote. Cioè, in due casi su tre, l'influenza non si sa da cosa sia provocata. Quindi, di cosa stiamo parlando? E' per questo che i vaccini anti-influenzali sono inefficaci. Perché ammesso che ogni farmaco sia efficace per il singolo virus per cui è progettato, che peraltro è mutevole questo virus, lo sanno tutti, lo sappiamo. Quindi se tu ti fai un vaccino per un certo ceppo, diventi un bersaglio mobile di qualcosa che continua a cambiare in realtà. E quindi questo prodotto proteggerebbe solo una persona su dieci. E gli altri nove fanno l'influenza a prescindere dal virus dell'influenza. Ecco perché tua zia, che è sempre vaccinata, poi fa comunque tutti gli anni l'influenza. Inoltre, il documento dice che le stime annuali sulla diffusione dell'influenza, quelle fornite dalle istituzioni, dai media, sono congetture pure, gonfiate e inverosimili. Perché nessun sistema di sorveglianza è in grado di definire né la presenza, né ovviamente la causalità del virus rispetto ai sintomi. Allora, l'ignoranza pluralistica, che è quella che si forma all'interno di un gruppo, di una società, spinge i politici a promuovere campagne di vaccinazione anti-influenzale nella credenza che abbia una qualche efficacia. Che però nessun dato di evidenza può sostenere. Anzi, semmai il contrario. E comunque il finanziamento di campagne nazionali assolve i decisori da qualunque responsabilità e fa girare un po' di denaro, ovviamente. Quindi per loro e per tutti meglio farle queste campagne, anziché no. E quindi alla fine di questo documento i ricercatori ci lasciano con un paio di domande. Perché i vaccini anti-influenzali hanno avuto un ruolo così importante negli ultimi due decenni, soprattutto? E questa dubbia e costosa iniziativa si applica anche ai vaccini anti-Covid? Si chiedono. Ti lascio il link in descrizione per andare a leggere l'articolo originale e poi anche qualche altro articolo sul tema dall'archivio di 5 Labi Magazine perché negli anni scorsi ne abbiamo parlato tantissimo. Grazie a tutti.